Sono 612 nuovi contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 3077 tamponi processati a un tasso che dal 18,48% è passato al 19,89%. Pesanti le dato dei decessi tra domenica e lunedì se ne sono contati 12, 8 più 4 per un totale complessivo di 2860 vittime. I ricoveri dopo i cali dei giorni scorsi tornano ad aumentare più 11 in reparto, totale 288 e più 2 in terapia intensiva, totale 12. La vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie è un'arma cruciale che potrebbe permettere di interrompere la circolazione di questo virus, ma il numero di dosi al momento destinato all'Italia è pari a poco più di 5.000 e probabilmente insufficiente considerando che vanno fatte due somministrazioni. Lo afferma Massimo Andreoni, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata, avvertendo circa la necessità di essere pronti a sollecitare le previste ulteriori dosi dall'Europa e allargare l'utilizzo del vaccino anche ad altre regioni italiane oltre alle quattro al momento indicate. Intanto la Regione Calabria ha istituito un tavolo tecnico per l'individuazione e la gestione di eventuali casi di vaiolo delle scimmie. Il Dipartimento Tutela della Salute, presiduto da Iole Fantozzi, ha indicato quale coordinatore della Task Force il professor Carlo Torti, direttore di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Materdomini di Catanzaro. Ma per il momento la situazione è tranquilla perché in Calabria non abbiamo casi, seppure ci sono stati alcuni casi sospetti che hanno richiesto l'esecuzione del test. Però certamente il Dipartimento della Salute regionale ha deciso giustamente di prepararsi all'evenienza di un eventuale aumento di casi. Peraltro c'è da dire che alcuni studi recenti indicano come il numero di casi in Italia potrebbe essere il doppio di quelli che sono stati registrati, trattandosi di una patologia tutto sommato lieve che può passare inosservata se non c'è appunto un'informazione adeguata anche della classe medica affinché si possa evocare il sospetto e quindi in tal caso eseguire il test. L'infezione comunque è limitata al momento ad alcune categorie specifiche a rischio e sembra non interessare la popolazione generale dove i casi sono pochissimi. È chiaro che dobbiamo avere la mente aperta verso un tipo di sorveglianza attiva o passiva che consenta però di individuare quanto più precocemente i casi di malattia, indipendentemente da ogni categoria mentale. Ripeto, non esistono le categorie a rischio ma esistono i comportamenti a rischio. Nei primi sette mesi del 2022 il porto di Gioia Taur ha registrato 2.03.388 TEUS con una crescita del 15,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando i TEUS erano stati 1.736.615, tra gennaio e luglio dello stesso periodo inoltre sono state movimentate 108.705 vetture a fronte delle 43.885 dello scorso anno con un balzo del 147,7%. Sono alcuni dei dati in materia di movimentazione di container e autovetture forniti dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale Ionio Andrea Agostinelli in occasione della presentazione della programmazione di sviluppo dello scalo. A Rocca Imperiale agosto sarà il mese dei grandi eventi e di ospiti prestigiosi con un cartellone molto ricco che vede sempre protagonista il limone e grazie alla sottoscrizione di un rapporto di collaborazione tra l'amministrazione comunale e il consorzio del limone. Abbiamo ritenuto esaltare al meglio quella che è una risorsa tipica del nostro posto cioè il nostro limone. In verità questi due anni sono stati anni di grande lavoro perché abbiamo completato quell'esperienza della cantina vitivinicolo che era stato trasformato in laboratorio per derivati di limone e poi abbiamo proceduto ad un bando e proceduto anche alla contestuale assegnazione. Inizia un percorso che punta sostanzialmente alla cosiddetta filiera corta, ci punta a realizzare questo salto di qualità e a coinvolgere il territorio, i produttori verso una nuova esperienza complessiva che è quella anche come obiettivo e orizzonte finale della commercializzazione del nostro prodotto. Sono passi lenti ma sono passi significativi ed importanti che stiamo facendo insieme al consorzio del limone e anche quest'anno noi abbiamo ritenuto sottoscrivere un protocollo col consorzio del limone e mettere in campo una serie di eventi insieme al consorzio, insieme alla regione Calabria, insomma un'esperienza che si rinnova e soprattutto un'esperienza che guarda con interesse a quella che è una prospettiva che contribuisce ad arricchire la nostra regione e che contribuisce anche e soprattutto a tenere ferme e saldo un'economia che è quella della nostra comunità. Lo scenario incantato del Castello Svevo è stato il palcoscenico dell'incontro tra il limone e il cinema. Protagonista della serata, una delle più grandi attrici italiane, Ornella Muti. Il limone di Rocca Imperiale. Ha un profumo veramente pazzesco, intenso, diverso dagli altri, molto più intenso, sì, buonissimo. Questa piccola collina piena di luci, di casette, è meravigliosa, la dovete venire a vedere, a visitare, assolutamente. A Roseto Capospulico la stagione balneare, partita già dal 21 maggio, entra nel vivo e propone ai suoi turisti, oltre alla meraviglia del suo mare, per il sesto anno consecutivo bandiera blu. Accoglienza, attenzione al benessere, alla salute e un ricco cartellone di intrattenimento per tutti i gusti. Anche quest'anno l'antico granaio ha aperto le porte all'arte contemporanea, che fino al mese di settembre sarà una delle attrazioni di punta dell'estate. Anima Sveva, l'emblema che contraddistingue le tante iniziative di carattere culturale di Roseto Capospulico, ha inaugurato la stagione artistica con un'importante mostra antologica dell'artista Tarcisio Pingitore, le cui opere si dipanano lungo un percorso espositivo coinvolgente e sensoriale. Il titolo è Origine, la sublimazione della materia. L'artista inizia il suo percorso, un percorso a ritroso, alla ricerca delle origini della sua arte, del suo estro, che partono appunto sia dalla pittura ma poi soprattutto dalla materia, quindi elaborando la materia nel tempo e portando dentro sempre un contenuto di tipo esistenziale. Le opere in mostra riguardano gli stati d'animo proprio dall'artista, che tipo ansia, attesa, ripetute varie volte in diverse serie, in diversi anni. La mostra di Tarcisio Pingitore quest'anno ci regala tantissime emozioni. Secondo me la emozione più grande, che è quella che ho provato io qui dentro, è l'essenza delle emozioni. Il bianco, il nero, il rosso, consentono a tutti di scrivere qui dentro cosa vogliono, di rispecchiarsi per come diciamo si sentono. In queste lenzuola bianche che sono simbolo certamente di purezza, simbolo anche di morte, di trasformazione quindi. Per cui questa mostra secondo me è un luogo da visitare quest'anno per raccontarsi e per ritrovarsi anche. Quindi la consiglio a tutti è un'emozione particolarmente forte.